Ciao e benvenuto da Felix in Business. Oggi voglio condividere con te un sito web che ti permetterà di guadagnare vendendo dei prompt per chat GPT, Meet Journey, Instant Art eccetera oppure per risparmiare del tempo acquistando dei prompt già pronti e attestati. Prima di iniziare ti invito ad iscriverti al canale, lasciarmi un like ed attivare la campanellina. Il sito in questione, come puoi vedere, è promptbase.com. È un marketplace per l'acquisto e la vendita di prompt di qualità che producono i migliori risultati per generare risposte coerenti e dettagliate da parte dei vari modelli di intelligenza artificiale come chat GPT, Meet Journey eccetera. La prima cosa che dobbiamo fare è registrarci. Andiamo a vedere come si presenta il sito. La prima sezione è marketplace. I prompt sono divisi sia per modelli che troviamo qui e sia per categorie. Come possiamo vedere possiamo trovare prompt per Meet Journey per creare immagini e illustrazioni ma possiamo trovare anche prompt per chat GPT. Una volta che abbiamo aperto il prompt che ci interessa possiamo vedere che è composto da un'immagine che ci fa capire di cosa stiamo parlando. Cosa ci offre questo prompt? C'è il titolo e qui c'è una breve descrizione che ci dice diciamo di cosa si tratta. Acquista questo suggerimento e sarà in grado di generare da solo e bellissime borse di moda per animali realistiche. In questo caso il prompt costa 2,99 dollari. Se clicchiamo su ottieni prompt in pratica dobbiamo effettuare il pagamento e ci viene mostrato il prompt da utilizzare su Meet Journey. Torniamo indietro. Ad esempio noi in search qui possiamo cercare qualsiasi tipo di prompt o qualsiasi richiesta che noi abbiamo e vediamo se esiste un prompt già pronto. Andiamo a vedere ad esempio questo il primo. In questo caso ci dice generatore di modellazione dei processi aziendali. È per chat GPT. Qui ci dà l'esempio di input e qui ci dà l'esempio di output. Quindi cosa ci risponderà poi chat GPT. Una volta cliccato su compra andiamo al checkout. Una volta inseriti i dati di pagamento avremo il nostro prompt. Come potete vedere ce ne sono veramente tantissimi per tutti i processi e per tutti i modelli a disposizione. Ok ora vi voglio far vedere come aggiungere un prompt per cercare di venderlo. La prima cosa da fare è andare su sell che troverete in alto a destra. In questo caso non si vede perché è stato tagliato. Dopo chat c'è sell. Questa è la pagina che ci esce. Dobbiamo selezionare il tipo di prompt. In questo caso proviamo con chat GPT. Ci tengo a precisare che è solamente un prompt di prova. Mettiamo ad esempio personal trainer. Qui ci va il titolo del prompt. Qui ci va una descrizione. A questo punto scegliamo il prezzo di 1,99 dollari. Clicchiamo su avanti. Qui ci dobbiamo inserire il prompt. Come potete vedere deve superare un test. L'ha superato in automatico. A questo punto possiamo inserire altri dettagli. Noi non lo facciamo. Clicchiamo su avanti. Una volta arrivati all'ultimo step dobbiamo inserire il nostro conto stripe. Inseriamo la residenza. Colleghiamo il nostro conto stripe. A quel punto il prompt potrà essere pubblicato. Ovviamente prima di essere pubblicato dovrà passare delle verifiche che in media il sito ci dice che ci vorranno circa da 1 a 3 giorni. Quindi questo è come si inserisce un prompt a questo sito. Torniamo indietro. La stessa cosa si può fare. Allora lo stesso procedimento lo possiamo fare con le immagini. Andiamo a scegliere il tipo di prompt. In questo caso scegliamo Mi Journey. Inseriamo un titolo e inseriamo una descrizione. Inseriamo un prezzo. In questo caso mettiamo 3,99. Clicchiamo su avanti. In questa pagina dobbiamo inserire il prompt un po' come abbiamo fatto prima. L'unica differenza la fa che qui dobbiamo inserire, dobbiamo copiare il prompt che abbiamo usato su Mi Journey. Quindi che cosa facciamo? Andiamo su Mi Journey. Andiamo a scegliere l'immagine che ci interessa. Mettiamo caso che questo sia un nostro prompt. Lo copiamo. Lo andiamo ad incollare. Dobbiamo anche inserire la versione, se è la 4, se è la 2. E a questo punto invece dobbiamo inserire le immagini. Le immagini che praticamente sono uscite fuori da poi da questo prompt. In questo caso se noi andiamo su Mi Journey queste saranno le immagini. Ovviamente questo non è un nostro prompt ma sto facendo solo un esempio. Avremo comunque queste immagini salvate sul nostro computer. Andiamo ad aggiungere queste immagini qua e a questo punto invece dobbiamo mettere il link del nostro account Mi Journey. Però per avere questo link dovremo avere un abbonamento attivo altrimenti Mi Journey non ci darà questo link. Quindi per poter mettere in vendita un prompt per quanto riguarda le immagini, ad esempio su Mi Journey, dobbiamo per forza avere un abbonamento attivo. Inseriamo il link, possiamo proseguire e quindi finiremo col pubblicare il prompt proprio come abbiamo fatto prima. Un'altra sezione è questa. Ci permette di generare un'immagine proprio col modello di prompt base. Qua inseriremo il prompt, clicchiamo su Crea e ci creerà la nostra immagine. Ci sono cinque crediti appena registrati poi li possiamo comprare. Onestamente vi dico che l'ho provato non è nulla di che. Ci sono molti strumenti più interessanti proprio come Instant Art. Ho fatto un video, se non l'avete visto andatelo a vedere, come creare immagini gratis e illimitate con Instant Art. Quindi ragazzi questo è il funzionamento di prompt base. In descrizione vi lascerò il link per prompt base, ma vi lascerò anche un altro link dove potete trovare dei prompt completamente gratuiti, sia per quanto riguarda Chat GPT, sia per quanto riguarda Mid Journey oppure Instant Art. Per questo video è tutto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like ed attivate la campanellina. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!